La nona delle fatiche di Eracle fu quella della cintura di Ippolita. «Mia figlia», disse un giorno Euristeo a Eracle, «desidera la cintura che indossa Ippolita, la regina dell'Amazzoni. Vai a prenderla e portamela». Quando sentirono che Eracle stava per andare dall'Amazzoni, tutti i suoi compagni insistettero per accompagnarlo. Le Amazzoni erano donne guerriere che abitavano sulle coste del Mar Nero e tutti avevano spesso sentito parlare di loro, ma nessuno le aveva mai viste. Eracle scelse i suoi compagni più coraggiosi e una mattina si imbarcarono e salparono. Dopo un lungo viaggio avvistarono finalmente la terraferma. «Armatevi, amici miei», gridò Eracle, «e preparatevi a combattere». Quando la nave approdò, Eracle e i suoi rimasero sorpresi nel vedere un gruppo di donne che passeggiavano lungo la spiaggia e li salutavano sorridendo. «Siate benvenuti», gridò la donna che guidava il gruppo. «Io sono la regina Ippolita. Venite nel mio palazzo, vi offrirò da mangiare e da bere». Eracle e i compagni si rallegrarono in dover combattere questa volta. Al palazzo Eracle disse a Ippolita che per che cosa era venuto e la regina sorridendo gli rispose «Puoi avere la mia cintura e regalo». Ma la dea Hera, che stava guardando la scena, si infuriò all'idea che quell'impresa fosse così semplice per Eracle. «State in guardia, vi sbigliò allora all'oricchio delle altre amazzoni. Eracle è venuto in realtà per fare del male alla regina Ippolita». Le amazzoni credettero alla dea e, afferrate rapidamente lanci e spade, attaccarono Eracle. I suoi uomini combatterono coraggiosamente e, nella furia della battaglia, Eracle uccise Ippolita. «Correte alla nave», dividò i compagni e poi, afferrata la cintura di Ippolita, si precipitò sulla spiaggia inseguito dalle amazzoni. Riuscirono a salvare sani e salvi, ma Eracle, ammirando la preziosa cintura, fu preso dalla tristezza, perché per quell'oggetto aveva dovuto uccidere la generosa regina Ippolita. La figlia di Eristeo fu molto contenta per la cintura, ma il re ringhiò Eracle. «Hai ancora molte fatiche da compiere». La decima fatica fu quella dei buoi di Gerione. «Vai da re Gerione, il mostro a te teste, e portami sui buoi», ordinò Eristeo. Il giorno dopo Eracle partì. Sbarcato sulle coste del Nord Africa, cominciò per lustrare la zona sotto il sole infuocato. Faceva un gran caldo, tanto che Eracle ad irato scoccò una freccia contro Elio, il dio del sole, e questo, ammirando tanta audacia, raffreddò un poco i suoi raggi. A un certo punto Eracle si trovò di fronte a un tratto di mare, ma ancora una volta Elio li venne in aiuto, inviandogli una grande coppa d'oro galleggiante. Eracle saltò a bordo di quello strano battello e si lasciò trasportare verso il regno di Gerione. Arrivato su una spiaggia, tirò in secco l'imbarcazione e si avvicinò alla ricerca dei buoi. Di lì a poco avvistò le sue prede sulla cima di una collina, ma mentre si avvicinava, un enorme cane a tre teste, gli si avventò contro ringhiando e abbaiando furiosamente. Eracle aspettò che le arrivasse vicinissimo e poi lo uccise con un potente colpo di clava. Stava portando i buoi giù dal colle, quando Gerione li si parò davanti, lanciando grida spaventose. Eracle allora scagliò una freccia e lo uccise all'istante. Condusse poi i buoi alla barca d'oro e dopo averli caricati a bordo salpò. Dopo molte settimane raggiunse il palazzo di Uristeo e consegnò i buoi di Gerione, ma il re non li apprezzò più di tanto e si lamentò invece perché Eracle era stato via troppo lungo. L'undicesima fatica fu quella dei pomidoro. Ora devi portarmi tre pomidoro dal giardino delle Speridi, ordinò Euristeo. Eracle non aveva idea di dove abitassero le ninfele Speridi e implorò la di Atena di aiutarlo. «Sulle montagne e confini della terra troverai un boschetto sacro», disse Atena. Eracle la ringraziò e si mise in viaggio. Dopo mesi e mesi arrivò ai confini della terra dove vide Atlante che sorreggeva la volta del cielo. «Come faccio a prendere i pomidoro?» gli chiese Eracle. «Vai nel boschetto e uccidi il drago che vi fa la guardia, poi torna qui». «Soltanto io posso cogliere i pomi», rispose Atlante parlando con fatica sotto il peso del cielo. Eracle lo ringraziò e avanzò furtivamente nel boschetto verso l'albero dei pomi. Attorcigliato intorno al tronco c'era un drago d'oro e con lo sguardo sfidò Eracle ad avvicinarsi. Questi li scagliò contro una freccia avvelenata e poi tornò ad Atlante. «Tienimi la volta del cielo e io vado a cogliere i pomi», gli disse Atlante ed Eracle prese il suo posto. Poi Atlante tornò con tre pomi e disse «Reggi il cielo ancora un po', mentre io vado a portare i pomi ad Euristeo a nome tuo». Ma Eracle si insospettì e pensò che se accettava, Atlante non avrebbe mai più fatto ritorno, lasciandolo a sorreggere per sempre la volta celeste. Volentieri rispose «Ma prima di andar via ti dispiacerebbe aiutarmi a sistemare meglio il peso sulle spalle? Sostituiscimi per un momento, in modo che riesca ad aggiustarmi il mantello». E dopo aver passato il cielo ad Atlante, Eracle afferrò i tre pomi d'oro, lo salutò e si allontanò in fretta per tornare da Euristeo. La dodicesima fatica fu quella della cattura di Cerbero. «La tua ultima fatica sarà di gran lunga la più difficile di tutte», disse il re Euristeo a Eracle. «Voglio che questa volta tu vada nell'oltretomba e mi porti Cerbero, il mostruoso cane a tre teste che sta di guardia all'ingresso». Eracle sapeva di non poter trovare da solo la strada per l'oltretomba. Allora chiese di nuovo aiuto ad Atena, che li mandò Hermes, il messaggero degli dèi, perché lo guidasse. insieme percorsero molte gallelie sotterranee e arrivarono all'Ostige, il fiume nero che bisognava attraversare per giungere nel regno dell'oltretomba. Sulla sponda c'era un vecchio traghettatore, Caronte, che si rifiutò di portarli sull'altra riva. «Lo sapete che posso portare solo i morti», disse scorbutico. Ma Eracle non si dette per vinto, tanto che alla fine Caronte accettò di traghettare almeno lui. Una volta dall'altra parte del fiume, Eracle percorso una serie di cunicoli nebbiosi, dove vagavano le ombre dei morti. Finalmente vide Plutone e Persefone seduti sul trono. «Posso portarmi via Cerbero?» chiese Eracle al re dell'oltretomba. «Sì, puoi prenderti il cane, ma devi riportarmelo indietro», rispose Plutone. Ed Eracle ringraziatolo, si precipitò verso la porta dell'oltretomba a cui Cerbero faceva la guardia. Il cane dalle tre teste la trò e ringhiò ferocemente. Eracle si accucciò aspettando il momento giusto e quando Cerbero li saltò addosso, lottò con il mostro così a lungo da costringerlo infine ad accasciarsi ed augusto. Poi lo trascinò al fiume Stige, lo caricò sulla barca e lo trasportò fuori dall'oltretomba, portandolo fino al palazzo di re Eruisteo. Quando il re vide quel cane che ringhiava strellò terrorizzato e saltò di nuovo nel tuo vaso. «Ora basta!» gridò Eracle. «Ho portato a termine tutte le mie fatiche e non sono più tuo schiavo. Adesso sono libero». Poi, come promesso, andò a riportare Cerbero nel regno dell'oltretomba. Poi andò al Tempio degli Dei e si inginocchiò di fronte alla sacerdotessa. «Era, disse la donna, hai dato prova di essere forte e coraggiosa e sei perdonato per aver ucciso i tuoi figli». Eracle la ringraziò e in silenzio uscì dal Tempio. Gli dei erano così fieri di lui che lo invitarono sull'Olimpo. «Bravo!» disse Zeus dandogli il benvenuto. Eracle si trattenne per un po' nel palazzo del padre e poi ripartì per affrontare nuove avventure. Fine della storia. grazie a tutti.